Un po' triste ma allo stesso tempo, felice perché questa avventura sta finendo. Tutta questa storia sta giocando dai miei, avvolterati senza che ci accoglierai. In questa storia che c'è a pezzù c'era a termine, vi ricordo che è pronta per essere finita. Questa storia sta giocando a termine, questa sta giocando a termine. Non c'è la coromba toglierti senza dirma, più scivava, più scivava, più scivava. E non c'è la coromba toglierti senza che ci accoglierai. Non c'è il problema. Non c'è la coromba toglierti senza che ci accoglierai. Finirà Tutto 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 Tempo Finirà 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 Noi Beh, oggi parliamo di Tutti chiedete su Dima Tutti chiedete su Dima, quindi io sono pure Sì, io sono già le spacco. E nemmeno i miei da Pani sono. Io sono figlia dei cavalli. Io sono. Io sono figlia dei cavalli. Infatti io... Non ho mai sbagliato a scelta. Ecco, io sono inibida. Sì, sei inibida per tu. Aspetta. Certo. In vostro mondo in realtà sono... Umane è un... No. Mi ricavano. E... E' un... C'è umano. Questo mi ha portato a... Un po' di inquinato. ... ... ... ... ... dare una legata ascolto il tema tutti tutti i morti anche se il passato diamogli non prendo io io non ho un secondo come? come? questo è morto guardate i morti si riconosci va bene io ero l'anzionata mi guarda sempre l'anime Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.